Questo programma è offerto da... Euronics Gruppo Tufano. I prezzi più bassi, sempre, anche a Natale. Euronics Gruppo Tufano. Buonasera, ma io ti aspettavo con l'abbicino rosso stasera, siamo quasi a Natale, dopodomani è Natale. Claudia, che mi combini? Babbo Natale arriva il 25, oggi è venerdì. Che ti porta Babbo Natale? Hai scritto la letterina? Le Barbie in bicicletta. Le Barbie in bicicletta? Cioè, ero bambino e mi ricordavo che Barbie andava già con la Vespa. Lei, insomma, nel 2017 pari quasi al 18 in bicicletta. Beh, insomma, sapete perché in bicicletta? Perché 52 per 12, il rotocalco sportivo che tratta, si nutre di ciclismo. Il ciclismo lo porta a due ruote, le due ruote sono a bicicletta. Ha fatto un pochettino il risunto della situazione. Esatto. Buonasera, Claudia De Leo, la nostra monella 52 per 12. Come ti è andata questa settimana? Tutto bene. Ti sei ripresa dalla febbre? Tutto a posto? Tutto perfetto. Tutto perfetto. Quindi concludiamo l'anno alla grande, anche perché mancano veramente pochissimi giorni. Se la memoria non mi inganna, dovrebbero essere nove giorni alla fine del 2017. E quindi poi saluteremo definitivamente quest'anno, che sarà stato bello per alcuni, meno bello per altri. Sicuramente, Claudia, molto bello per gli ospiti di questa sera. Esattamente, meno. Oggi presentiamo il team Cesaro, categoria giovanissimi dai 7 ai 12 anni, con il loro presidente, Aurelio Cesaro. Buonasera. Ciao. Ciao a tutti. Buonasera. Il loro direttore sportivo Stefano Minichino. Buonasera, Stefano. E il tesoriere Giuseppe Ambrosio. Ciao, buonasera. Allora, io parlo con il tesoriere perché in effetti è la figura che è più importante, insomma, del tesoriere. Cioè, per essere tesoriere, l'uomo di fiducia. Sì, ringrazio il presidente per avermi dato questa fiducia, tutto il team Cesaro. Sono contento di questa squadra che ben venga. Questi ragazzini sono forti per quanto sono piccoli, ma già hanno una grinta e speriamo bene per l'anno prossimo. Il neonato team Cesaro, categoria, come diceva Claudia, categoria giovanissimi. Allora, io vengo al presidente. Aurelio, su Facebook, insomma, l'amicizia che ci lega, però noi ci conosciamo con un appassionato di cinofilia, si dice così. Insomma, lui che ha dei cani meravigliosi, tante coppe vinte, come si chiama il tuo cucciolo? Sette cuccioli c'ho, quindi... No, quello che ti porta... Quella va è femminuccia, veramente. Ah, è femminuccia. È vera degli akei. Vera degli akei, insomma, lui è appassionato. E poi ti trovi sulla bici, come funziona? Roberto, tuo fratello, lui è fratello dell'ex professionista Roberto Cesaro, quindi... Roberto ti ha trascinato in questo mondo? No, in questo caso è stato, diciamo, riflesso il fatto. Sì, ho incominciato io e poi lui, diciamo, ha intrapreso anche lui questo... Ha intrapreso l'attività, insomma, ha seguito la scia e l'orma del fratello maggiore, ottenendo poi, insomma, belle soddisfazioni. E belle soddisfazioni le sta ottenendo anche adesso nella categoria master, categoria materiale. Team Cesaro, che nasce... è nato da pochissimo. È nato, sì, due mesi fa è nato con questi amici Stefano, Ambrosio, Enichino Antonio, eccetera. Diciamo, ci siamo messi un po' tutti quanti insieme e l'avevamo creato. Abbiamo creato, allora io adesso, Claudia, quel signore lì al centro, l'hanno messo al centro non perché così per caso, ma è una posizione che lui sempre, sulle manifestazioni, sui raduni, sulle cose, sta sempre al centro dell'attenzione. Buonasera Stefano. Buonasera Teriro. Allora, nonno Stefano che ha portato da sempre, cioè ci conosciamo perché, insomma, la tua passione per il ciclismo, papà di Antonio Minichino, insomma, uno che veramente ama il ciclismo ma con la A maiuscola. Allora, adesso sei DS del team Cesaro, allora questi ragazzi cosa andremo ad insegnare? Allora, la prima cosa che devono imparare i ragazzi è l'educazione nei confronti degli altri. Beh, questa è la cosa importante. Questa è la prima cosa. Poi, la disciplina della bici è come il nuoto, è completa di tutto. Non si fanno sconti. Poi, i ragazzi, oggi come oggi, devono imparare ad andare in bici, anche su strada, perché sulla strada oggi come oggi ci sono molte persone che vengono coinvolte. Pericolosissimo, sì. Ecco. Molto, molto pericoloso. Allora, io comincerei, vorrei sentire, prima di fermarci e andare in pubblicità, vorrei sentire la voce di questi futuri campioncini. Noi lo diciamo futuri campioncini perché in effetti, ecco, parliamo della categoria 7-12 anni, parliamo di giovanissimi, quindi parliamo di bambini. E ai bambini bisogna inculcare, ecco, la cultura, la cultura della bici, non farli credere, pensare, immaginare. L'importante è seguire delle discipline, avere rispetto, come diceva Stefano Minichino, rispetto per gli altri soprattutto, ma io aggiungerei rispetto prima per se stessi, perché chi ha rispetto per se stessi, poi di conseguenza ha rispetto per gli altri. Quindi questa è una rappresentanza, credo che ce ne mancano quanti Stefano? Mancano ancora sette ragazzi. Ancora sette ragazzi, quindi per il neonato team Cesaro è già un numero importante. Cominciamo da Antonio Ambrosio. Buonasera Antonio. Ciao. Ciao. Tu quanti anni hai? Dieci anni. Dieci anni Antonio. Da quanto tempo vengi in bici? Da tre anni. Tre anni. Allora, questi sono colori nuovi, colori belli, forti, colori sgargianti, come diciamo noi a Napoli, no? Che ti aspetti? Cosa vorresti da questo 2018? Che vinciamo sempre. Ehi, va bene. Che vinciamo sempre, giustamente Antonio, hai capito? Antonio è modesto, vinciamo sempre. Però io te lo dico, vincere l'importante è partecipare alla vostra età, perché dire sempre, vicino a un bambino, devi vincere, devi fare, insomma, poi ci sta quell'ansia da prestazione che sicuramente fa tanto male. Vicino ad Antonio Ambrosio c'è Roberto Giangrande. Scostumato però, Roberto Giangrande, insomma, anche sulle gare, anche in bici è così. Ciao Roberto. Ciao. Ah, eccolo qua. È tanto grande, ma è molto timido. Io lo conosco benissimo. Veramente, lui ha un tantino in più, perché forse tu da più anni fai bici, da quanti anni? Sì, tre. Da tre anni, quindi le hai fatti intensamente anche tu, hai portato, hai avuto tante vittorie pure tu. Sì. Quest'anno, soprattutto, insomma, l'ho visto parecchie volte, emulare, imitare, ditelo come volete voi, i veri, i veri campioni. Tu invece per il 2018 cosa ti aspetti? Penso di vincere i campionati italiani. Pensi di vincere i campionati italiani? Queste sono aspettative importanti. Poi andremo a parlare con il DS, perché queste risposte sono importanti e servono anche a far capire quali sono le vostre ambizioni per il 2018. Ma veniamo da questo lato, se passiamo il microfono all'altro giovanotto, Giuseppe Sciarra. Buonasera, Giuseppe. Ciao, Amino. Giuseppe Sciarra, alias, l'ho promesso e lo dico, alias Pipistrello. Perché ti chiamano Pipistrello? Perché quando corro, volo. Quando corro e vola, signori miei. Signori miei, parliamo. Quanti anni hai, Giuseppe? Dieci. Dieci anni per Giuseppe, tu invece da quanti anni fai bici? Cinque. Cinque anni. Quante vittorie? Tutte. Tutte. Signori, forse c'è il meglio della categoria, giovanissimi in questo studio, questa sera qui a 52 per 12. Invece alla terza, alla quarta ed ultima atleta in rappresentanza del gruppo la facciamo presentare, come giusto, a Claudia, perché tra donne se la intendono. Esattamente, Mino. Lei si chiama Melania Minichino. Ciao. Ciao. Melania, buonasera. Ben ritrovata. Come stiamo? Bene. Bene, bene, bene. Tu da quanti, cioè Melania Minichino, una delle poche ragazzine, signori, come, no perché se dico bambina mi picchia, già mi è capitato avere la morale, una delle poche signorine che in campagna praticano ciclismo. Melania, tu da quanti anni sei in bici? Tre anni. Da tre anni. Melania Minichino che greggia, ahimè, per lo scarso numero di donne, sempre con i maschietti. E come ti trovi? Bene. Ti trovi bene. In questo 2018 invece cosa vorresti? Vincere e provare tante emozioni. Provare, bella questa, provare tante emozioni. Allora noi con queste promesse e speranze, mettiamola così, con queste speranze ci fermiamo un attimo. Andiamo in pubblicità, poi ritorniamo dal DS Stefano Minichino perché quello che hanno detto i ragazzi è veramente importante. 52 per 12. Dal 15 al 24 dicembre da Euronics Gruppo Tufano c'è, sotto costo, Sony PS4 1TB. Da 389 a 299 euro, 1300 pezzi disponibili. LG Smart TV LED Ultra HD. Da 549 a 399 euro, 1000 pezzi disponibili. Samsung Galaxy J3 2017. Da 229 a 159 euro, 2500 pezzi disponibili. Da Euronics Gruppo Tufano, i prezzi più bassi, sempre, anche a Natale. Euronics Gruppo Tufano. Ringraziamo sempre lo sponsor, ringrazio Euronics Gruppo Tufano per aver sponsorizzato questa meravigliosa trasmissione. Perché io la definisco meravigliosa, perché di solito il ciclismo è uno sport di nicchia. Ma da qualche anno in campagna veramente i numeri sono in crescita. E me ne accorgo anche quando sono sulle manifestazioni, sono per strada tra la gente a fare il mio lavoro. Insomma, mi rendo conto che la gente è sempre più appassionata, si avvicina sempre di più al ciclismo. Allora, Stefano, di essere del team Cesaro, hai sentito quale sono, adesso lo possiamo dire, prima ho detto speranze, ma quali sono le ambizioni di questi giovanotti? Ma le ambizioni sono tanti, perché sono ragazzi in crescita e devono ancora imparare tanto. Quindi per adesso, diciamo, Antonio ha detto che vuole vincere tanto. Sì, Antonio vuole vincere tanto, Roberto è il campionato italiano, Giuseppe tutte, Melania vuole vincere. L'importante è partecipare, non farsi male e stare sentendo i consigli che uno gli dà. Ecco, io faccio una domanda perché devo fare sempre la parte del diavolo. Ma giustamente sono bambini, quindi accompagnati dai genitori, ma avete inculcato la stessa filosofia anche ai genitori, perché molto spesso capita sulle gare giovanissimi, quando ci sono bambini, di avere quella adrenalina mille, quell'ansia da prestazione e a volte ci sono genitori che si pongono male, malissimo nei confronti dei propri figli, insomma. Sì, effettivamente ci sono dei genitori un po' eccessivi, però io cerco sempre di metterli da parte, perché i genitori devono fare i genitori. Sulle gare c'è il direttore sportivo che è responsabile dei ragazzi, quindi i ragazzi devono stare a sentire me e non i genitori. Qualche genitore quando si incominciano ad intromettere in mezzo lo riprendiamo subito con tranquillità. Parlamissimo. Ragazzi, lasciateli stare, lasciateli tranquilli, devono imparare, devono giocare, poi il resto verrà da sì. E infatti, infatti, questo è, poi deve essere, la cosa bella del nostro sport è quello che ci deve differenziare, deve differenziare un pochettino la scuola di ciclismo dalla scuola calcio, perché nel calcio purtroppo esiste proprio questo, insomma si sente di tutto di più dagli spalti quando giocano i bambini. Ecco, nel ciclismo cerchiamo di essere, non dico superiori, diversi in maniera positiva, perché questo poi fa anche per la buona crescita dei giovani. Stefano, scuola di ciclismo, voi dove vi allenate? Allora, per il frattempo ci alleniamo a Bellona, ma verso la Villa Cesaroni, c'è uno spiazzale tutto chiuso, dove io mi posso organizzare con dei biridi, con delle assicelle e gli faccio fare tutto, ora come ora, ginnastica e gincana, che devono imparare a usare la bici. Ok, allora, i giovanotti devono imparare a usare la bici, adesso vi dico perché ha scelto Villa Cesaroni Stefano Minichino, perché i bambini, mentre i bambini imparano ad usare la bici, cara Claudia, devi sapere, poi ti ci porterò, ci andremo insieme, a Villa Cesaroni si mangia, si mangia pure bene. Ah, ecco. Hai capito com'è? Allora, ecco perché nonno Stefano, DS del team Cesaro, si allena a Villa Cesaroni, vabbè, comunque se giocate in casa, giustamente Villa Cesaroni, l'attività principale di Aurelio, che qualcuno potrebbe pensare, insomma, presidente del team Cesaro, amante della cinofilia, insomma, lui, ma tu sei chef, cucini tu? Sì, sì. Quante cose fai? Come ti dividi in una giornata? Ehm, è un casino, Mino, però diciamo, diciamo, riusciamo a gestire la roba. Riusciamo a gestire la roba. Riusciamo a gestire la roba. Sì, riusciamo a gestire la roba. Impegni Stefano, organizzazioni, ecco questo 2018, come ci presenteremo alla Campania? Ma quest'anno la prima gala faremo ad Orta di Etella. Orta di Etella che è un po' di anni protagonista. che è un po' di anni che organizzano i fratelli del prete e tutto il resto. E poi, ovviamente, arriviamo noi, sempre della squadra, altri 4-5 eventi, a Bellona, Orta su Civo, insomma, cercate di portare un pochettino di… Sì, sì, un 4-5 eventi. 4-5 eventi, quindi un appello che voglio fare a tutte le società che investono, insomma, investono tra virgolette sui giovani, cerchiamo di propagandare, perché io forse questo già l'ho detto, però lo ripeto, perché approfittiamo di queste puntate dove non ci dobbiamo dedicare alle gare, alle manifestazioni, quindi facciamo informazioni. E molto spesso è capitato che si dà la colpa al papà amatore che non porta i figli insomma verso questa direzione, a dare sfogo su questa passione della bici. E invece no, perché ci sono amatori come Antonio Minichino, il papà di Melania, come i fratelli del prete, che si impegnano e fanno dei sacrifici per portare anche i loro figli sulla bici, quindi per far seguire la passione di famiglia e questa tradizione di famiglia. Quindi cerchiamo di propagandare i giovani, di portare avanti i giovani, perché i giovani sono il nostro futuro. I giovani vanno educati, vanno seguiti, ma soprattutto sono coloro che tra qualche anno vorremmo ritrovare nel ciclismo che conta, perché noi ci manchiamo... Aurelio, tu che insomma hai avuto tuo fratello, forse è stato uno degli ultimi professionisti campani, no? Sì. Cioè, quanti anni sono che ci manchiamo dal professionismo che... Ecco, dal giro d'Italia. Il giro d'Italia campani hanno fatto in pochi proprio. Sì, sì, insomma, due o tre. Il Liano, Figueras... No, Pozzo Vivo non è campano, Figueras, poi c'è stato d'amore, Crescento d'amore, insomma, parliamo veramente di tanto tempo, quindi i giovani sono il nostro futuro. E oltre a questo, insomma, con la federazione come siete messi? Avete chiesto di essere più incisivi, di organizzarvi di più? Abbiamo... Stiamo, diciamo, organizzando anche questa cosa qua con loro, con Umberto Perno... Umberto, mi rivolgo, guardami negli occhi, anche se ho gli occhiali. Allora, insomma, stanno crescendo le società, le società che si interessano di ciclismo giovanile stanno crescendo, quindi cerchiamo di esserci veramente al fianco e cerchiamo di organizzarci un pochettino, anche perché ho notato una cosa, caro Stefano. E tu forse lo saprai, perché poi, seguendo i tuoi nipoti, ma anche il tuo figlio, ora insomma, categoria master, ma quando si esce fuori regione, le partecipazioni sono... Abbiamo dei numeri, se parliamo di giovanissime, abbiamo dei numeri che arrivano quasi vicino al 200. Sì. E in Campania, invece, già per raggiungere le prime due cifre, insomma, nella prima decina, è veramente un sacrificio. Quindi, ciò significa che dobbiamo organizzare i calendari, dobbiamo incentivare la partecipazione, perché è bello anche che una categoria, in ogni batteria ci sia la partecipazione, non dico tanto, ma come minimo 10-15 atleti, no? Come la vedi? Sì, infatti, prima che incominciano le gare, vorrei fare delle promozioni in piazza, cominciando da Caivano ad altri comuni. E in più nelle scuole, perché sono stato a parlare anche dalla Brunaciale, dove c'è mia nipota a scuola, per organizzare delle piccole manifestazioni di insegnamento agli altri bambini, per fargli vedere che cosa significa andare in bici, perché se un ragazzo, che uno non ha mai visto la bicicletta, non gli hanno mai detto come bisogna fare, a iscriversi su quello, allora facciamo queste piccole promozioni, per vedere se riusciamo a incentivare altri ragazzi e portarli sulla strada. E questa è una bella iniziativa, credo che sia una bella iniziativa, infatti qualche puntata fa, se non sbaglio due puntate fa, ho avuto qui il comandante della Polstrada di Caserta, il dottor Mitilini, che saluto e ringrazio ancora, e parlavamo di questa educazione stradale e della promozione che fanno anche nelle scuole sulla sicurezza stradale, però quando si parla di sicurezza stradale non possiamo evitare l'argomento ciclismo, quindi voi fate benissimo a propagandare questo nelle scuole, perché già dalle scuole se si riesce a far capire il senso della bici, veramente è un passo in avanti che facciamo anche a livello culturale, perché poi, insomma, la bici è un attimino diversa dal pallone, quando erano bambini un pallone, un pallone, devo giocare a pallone, devo giocare a pallone, invece la bici è un attimino diversa, ci sono tanti pericoli, tante situazioni, ci sta tutto quanto, però fatto con intelligenza, fatto con educazione e con istruzione, si può ottenere tantissimo. Il tesoriere che vedo pensieroso, bello, tranquillo, allora, tesoriere, cosa, oltre a gestire i tanti milioni di euro del team Cesaro, un fatturato di 5 milioni quest'anno, un fatturato di 5 milioni, insomma, hai una bella carta da pelare, una bella responsabilità, ecco, con tutte queste donazioni, sponsorizzazioni, perché il team Cesaro è sponsorizzato da Zama? Sì, Zama e AM. E AM, che è una sigla o un'azienda? È un'autocarrozzeria. Ah, ok, perfetto. Antonio Mastroianni. Ah, Antonio, quindi bravo Antonio. Ringrazio gli sponsor che credono in questa cosa, diciamo, per i ragazzi, ci vuole il loro aiuto per andare avanti, perché senza sponsor penso che sia un po' difficile. E tu con questi, cioè, sei il tesoriere, hai voce in capito per dire ragazzi, abbiamo X in cassa, organizziamo questo, facciamo quest'altro. Questo sì, beh, quando il presidente, lui mi chiede quando c'è in cassa, questo è tutto, c'è tanto, c'è questo e allora organizziamo una corsa qua, una corsa là e poi vediamo di incrementare quanto più è possibile creare eventi. Il botto lo farete sicuramente a Torta d'Atella, che è la prima? Sì, sicuramente, con i fratelli del prete faremo questa prima gara a Torta d'Atella e sarà la prima esperienza per i ragazzi, per il nuovo anno. E adesso devo andare, perché questa è una frallina che mi ha detto, insomma, qualcuno mi ha chiesto, vuoi chiedere al tesoriere, anzi no, vuoi chiedere al presidente se per Natale arriva Babbo Natale? E io la faccio questa domanda, ragazzi, la faccio, qualcuno che non è presente nemmeno qui. Allora, lo dico a nonno Babbo Natale, come ti posso chiamare? Minichino Natale, no Babbo Natale. Allora, per questi giovani, il team Cesaro per Natale cosa ha pensato? Ma, mi fa una bella sgambatina in bicicletta. Ragazzi, mi dispiace, dovete scubare anche a Natale, ma sempre a Villa Cesaroni? Sì, c'è un circuito di 750 metri. Ragazzi, ascoltate Mino Monelli, sgambatina va bene, ma fuori, non a Villa Cesaroni, perché Stefano Minichino lo so io perché vuole fare la sgambatina, no, no, fatela fuori, fatela fuori e andate in ogni, anche più lunga. Mangia e beve. Mangia e beve, ecco, mangia e beve. Invece, insomma, diamo il microfono a Melania, perché giustamente abbiamo parlato, insomma, è cominciato a parlare di Natale, anche perché è atmosfera natalizia, ci siamo quasi, dopo domani è Natale, anzi dopo domani è la vigilia, ma per noi è Natale, perché se avete seguito un pochettino tutta la storia, no, vogliono cambiare il nome al Santo Natale, da Santo Natale lo vogliono passare alla festa delle feste, perché in effetti noi in Italia abbiamo un po' perso il valore del Natale, la Natività, no, la nascita di Gesù e infatti in qualsiasi evento che ci sia mi facevano proprio notare questa cosa, poi ne parleremo, vi invito per questo fine settimana, vi divertirete con me, non c'è anche nel lucido artista, molto difficile trovare la Natività, non c'è mai la Natività, quindi hanno pensato di chiamare festa delle feste. Però Melania, io l'ho chiesto a Claudia prima, insomma non mi ha risposto, poi lo farò alla fine, ma a te Babbo Natale? Mi porta la bicicletta con le ruote, come questa, proprio questa bambina, dai qualche consiglio, fagli chiedere, Claudia tu che sei una bella ragazza, insomma consigliamo Melania, portiamola sulla retta via. Guarda io avrei chiesto scarpe, vestiti, però puoi chiedere anche dei completini per la bici, forse una via di mezzo, dipende poi il suo Babbo Natale cosa dice. Lei ha tanti Babbo Natale, Babbo Natale 1, Babbo Natale 2, Babbo Natale 3, insomma a te arriveranno a go go, insomma, e nonno fa sempre uno. E invece Giuseppe? Babbo Natale? Voglio, ho cambiato idea. No, aspetta, voglio non devi usare, già stai partendo sbagliato, Babbo Natale ti sta guardando, voglio non esiste nel vocabolario italiano. Per piacere. Vorrei, vorresti? Una bici con le ruote a profilo alto. Questi ragazzi sono dei futuri campioni, non ci sta niente a fare, Claudia. No, però in realtà lui ha già una. Guardiamo bene. Sì. Se giri un po' la testa ce l'ha disegnata. Riusciamo a vedere questa bici che ha disegnato Giuseppe sulla testa, questa bici proprio... Guardate, guardate che disegno. Ma che testa che hai, pipistrello, che testa che hai. C'è uno che si disegna la bici. E poi il tuo barbiere, insomma, che ti ha fatto sta cosa. È stato tre ore a disegnarti questa bici. Di più forse. Di più, eh? Cioè, voglio dire. Allora, per te lo dei Carbonio, bello, insomma, tutto riguarda il ciclismo. Invece passiamo il microfono agli altri due campioncini del team Cesaro. Antonio, te Babbo Natale hai scritto la letterina? Sì. E com'è scritta? Caro Babbo Natale. Sì. Quest'anno ho fatto il bravo. Vorrei una bici nuova. Vorresti una bici nuova, pure tu. Eh, va bene. Roberto, invece? Vorrei anche una bici nuova. Cioè, Babbo Natale è un zaino, c'ha. Infatti, deve cambiare, perché lui viaggia con la slitta. O no, eh? Cioè, nei tempi viaggiava con la slitta. Non so, te, insomma, che sei molto più giovane di me. Forse il motorino. Ah, già il motorino. Adesso devi arrivare con un tir. Sì, sì, con un tir sicuramente, tante bici. Ma poi con queste bici che ci devi fare? Camminiamo su. Camminiamo. E tu vuoi una bici da corsa? Una bici da passeggio va bene per camminare? No? No, non va bene, non va bene. Quindi bici da corsa, attrezzatore e quant'altro. Comunque è la cosa che vi dico. Babbo a Natale sicuramente sarà presente nelle vostre case. Qualsia... Come speriamo? Sicuramente. Se ve lo dico io, ve lo dico io. Sicuramente sarà presente. Però la cosa... La cosa importante è non fare il bravo solo a Natale. O la brava solo a Natale. Ma un anno è composto da 365 giorni. Claudia, dove hai fatta la brava? Insomma... Insomma... A te invece Babbo a Natale che ti porta? Babbo a Natale fa una sorpresa. Non lo so, ho chiesto troppe cose, quindi decide lui. Beh, ti farei... Cioè, quando più si cresce, più le richieste sono tante. Allora, signori, noi siamo giunti alla fine di questa puntata che... Essendo giovanile, tanti giovani... Sefa, non mi guardare. Tanti giovani, mi rivolgo agli atleti. Insomma, tu già mi stai guardando tutto sorridente, soddisfatto. Tanti giovani in studio. Sono giovanissimi anch'io con l'ora. Ma è l'animo. L'età è un numero. Il numero è solo... È relativo. Non è vero. No? Mi sono un ragazzino anch'io quando sono con i ragazzi. Infatti questo sto dicendo. È quello che si sente. Ma conteggiare gli anni, scrivere gli anni, è un numero poi, insomma, tutto va così. Ringraziamo il tesoriere del team Cesaro, Giuseppe Ambrosio. Grazie a voi, buonasera. Mi raccomando, buon lavoro e insomma governiamo bene questo capitale. Ringrazio il DS del team Cesaro, Stefano Minichino. Grazie a te per averci ospitati. Alla presidente del team Cesaro, Arelo Cesaro. Ciao Mino, grazie per l'ospedalità. Grazie a voi, Aurelio, poi aggiungiamo, insomma, ti vedremo a trovare io e Claudia, vedremo a gustare la tua cucina sicuramente, anche perché già so che appena finisce la puntata Claudia mi chiederà, ma abbiamo parlato bene, insomma, della cucina di Aurelio Cesaro, insomma, andiamola a trovare. Già lo so. Grazie a questi giovanotti, in bocca al lupo per l'anno, a Roberto Giangrande, Antonio Ambrosio, Giuseppe Sciarra e Melania Minichino. E a voi che dire? Che diciamo a loro? Che ci vediamo dopo Natale. Io mi emoziono quando devo fare gli auguri, però, insomma, lo diciamo. Auguri buon Natale. Anche a te, anche a voi, soprattutto. Buon Natale. Tu sei la brava, mi raccomando. Insomma, seguite Claudia De Leo sulla sua pagina Facebook, vi renderete conto che il nome di Monella 52x12 è proprio azzeccato, perché è una monella. Noi ci ritroveremo sicuramente la prossima settimana, sempre allo stesso aereo, sempre qui su Capri Event. Buon Natale, buone feste. Non mangiate troppo, ma mangiate il giusto. Divertitevi, ma non troppo. Buon ciclismo a tutti. Alla prossima. Questo programma è stato offerto da Dal 15 al 24 dicembre da Euronics Gruppo Tufano c'è Sotto costo Sony PS4 1TB Da 389 a 299 euro 1300 pezzi disponibili LG Smart TV LED Ultra HD Da 549 a 399 euro 1000 pezzi disponibili Samsung Galaxy J3 2017 Da 229 a 159 euro 2500 pezzi disponibili Da Euronics Gruppo Tufano I prezzi più bassi Sempre Anche a Natale Euronics Gruppo Tufano